F 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 questo è il teorema fondamentale ci dice che tutte le funzioni continue sono integrate secondo rin nulla fuori di un intervallo vi ricordo che nulla fuori di un intervallo ci vuole per forza perché per avere una funzione a scalino maggiorante e una funzione a scalino minorante le funzioni a scalino sono nulle fuori di un intervallo io posso avere questa funzione a scalino minorante e questa funzione a scalino maggiorante non mi interessa di farle ultimare però vedete che da un certo intervallo le funzioni a scalino in definizione sono nulle quindi questo ci vuole per forza se ci metto che la funzione è anche continua e nulla fuori di un intervallo è sicuramente integrazione più continua dimostrazione per il teorema di Cantor F è un intervallo continuo dice ma questo non è limitato guardate che quello è continuo anche su AB chiuso è nulla fuori di AB e petto però continua anche su AB chiuso su AB chiuso è continua e quindi per canto è un uniformemente continuo fuori vale 0 mettendo insieme la funzione che l'A è un uniformemente continuo fuori vale 0 rimane un uniforme per l'A quindi questa qua è un uniformemente continua per canto adesso cosa facciamo? dico sia ε positivo stavolta so che esiste un delta tale che se x-y è minore di delta allora minore di delta allora questo mi dice che f di x meno f di y lo voglio minore di ε fratto b-a posso sul padrone di metterci fratto b-a sul padrone perché AB è un intervallo di lunghezza positiva è fissato prendo ε divido per b-a e ragiono con ε fratto b-a ok adesso cosa faccio? dico sia n tale che b-a fratto n sia minore di delta cioè qual'è l'idea? rifaccio la figura la cosa qua importante è che questo delta non dipende da x da y perché la funzione è uniformemente continua questo è tutto il motivo per cui abbiamo fatto con la fatica allora la mia funzione se io prendo AB e lo divido in intervalli di ambiezza AB-a su n che cosa succede? che su ogni intervallino la mia funzione può salire non più di ε fratto b-a questo adesso lo andiamo a vedere diciamo questa differenza qua è x minore di cioè io prendo quali sono gli intervalli? io dico che AB è uguale all'unione per h che va da 1 fino ad n ma qua cosa ci metto? ci metto a più h volte b-a anzi h-1 volte b-a fratto n virgola a più h volte b-a fratto n allora vediamo un po' andiamo a calcolare il primo intervallino che è a più 1-1 fa 0 quindi parto da a poi l'intervallino dove arriva? ad a più b-a su n quindi qui parto da a il primo punto è a più b-a fratto n cioè mi muovo di b-a su n poi metto h uguale a 2 qua riparto da a più b-a su n quello di prima non c'era il punto questo adesso c'era il punto a sinistra quando arrivo ad a più due volte b-a su n cioè prendo questo b-a su n come se fosse un incremento fisso e lo riporto una volta tre volte eccetera quando arrivo ad h uguale n parto da chi? da a più n-1 per b-a su n se vi andate a fare i conti è esattamente questo punto qua e dove arrivo? a più n si semplifica a più b-a a-a si semplifica rimane b quindi l'ultimo intervallino è questo qua muore in b è chiaro? quindi adesso però andate state ben attenti cancello qua cancello l'enunciato perché preferisco finire la dimostrazione su questa stessa lavagna state ben attenti io cosa faccio? chiamo mh uguale il minimo di f dove x appartiene all'intervallino archesimo cioè ad a più h-1 per b-a su n chiuso perché lo prendo chiuso? ovviamente mh sarà il massimo della f della f di x sullo stesso intervallino sempre chiuso perché lo prendo chiuso perché la funzione è continua se lo prendo chiuso per valio ci sta il massimo e il minimo però io vi ingrandisco l'intervallino di riferimento su questo intervallino di riferimento vabbè qua la funzione stava salendo il minimo sarà qua e il massimo sarà qua però comunque sono due punti che distano allora questo minimo mh sarà uguale a f di x con h dove x con h sta qua dentro e m piccolo h sarà uguale a f di eta dove eta h pure lui sta qui dentro cioè sono due punti che stanno all'intervallino ora quindi x con h meno eta h stanno nello stesso intervallino quanto possono distare al massimo la lunghezza dell'intervallino ma la lunghezza di questo intervallino ogni intervallino è la lunga con p meno a fratto n ma p meno a fratto n sta scritto qua che è minore di d questo che vuol dire che f di x con h cioè mh meno m piccolo h è positivo perché questa è in massa e questa è in minimo ma è minore di epsi no su b n a che se due punti distano meno di b meno a diviso n cioè di delta sta scritto qua le loro immagini cioè m grande h e m piccolo h devono distare meno di epsi su b è chiaro? ok è venuto perfetto perché adesso posso cancellare quest'altra riga che l'ho sfruttata quindi stava giusto sotto per vederla ma non mi serve più e così completo la dimostrazione adesso vado a costruire fi 1 e fi 2 chi è fi 1? allora questo intervallino qua a lo chiamo i con h è l'intervallino a più h meno 1 per b meno a fratto n virgola a più h per b meno a fratto n semi aperto quello di v n alla chiude questo qua è quello di nuovo quello di v quello di v adesso prendo fi con 1 di x fi con 1 di x chi è? è la somma per h che va da 1 fino a n di m piccolo h per la funzione caratteristica di con h e chi è fi con 2? questa è la funzione a scalino perché questi sono valori costanti e queste sono funzioni caratteristiche di intervallini semi aperto il resto questa funzione è più piccola di f sì perché basta guardare sull'intervallino i con h la funzione vale m piccolo h ma sull'intervallino i con h la funzione f vale più di m piccolo h ma m piccolo h è il minimo sull'intervallino compreso il punto di destra non fa niente se lo fai il minimo sull'intervallo più grande va bene qua potreste avere che invece di s minore uguale di f magari sia minore di f stretto per esempio quando la funzione sta a scendere il minimo ce l'avete qua allora la f è maggiore del minimo che sta qua però il valore non viene assunto quindi il valore è sempre aperto quindi invece di avere minore uguale cioè il minore stretto ma è meglio ancora quindi questa disuguaglianza è vera l'altra funzione sui con due quella dall'alto chi è? è la somma per h che va da 1 a n di m grande h per la funzione caratteristica di con h di x che è più grande che è più grande allora andiamo a fare la differenza allora questa è una funzione a scendere minorante quindi questa appartiene a s meno di f e questa appartiene a s più di f andiamo a fare la differenza quando io vado a fare l'integrale di fi 2 scusate la meno fi è più infinito di fi 2 meno fi 1 in dx questo chi è? è la somma per h che va da 1 a n di m grande h meno m piccolo h per b meno a su n perché se vi ricordate cosa devo fare? la funzione di differenza ha valori m grande h e m piccolo h ma lo devo fare per la lunghezza di intervallo la lunghezza di intervallo è sempre b meno a su n costante non diventa h quindi tutto ciò è sicuramente maggiore o uguale di 0 perché una è dall'altro e l'altra è da basso d'altro canto è più piccolo di b meno a su n per la somma per h che va da 1 a n vabbè facciamo uguale e qua ci metto m grande h o meno m piccolo h ma questo è minore di b meno a su n minore o uguale per ecco allora qui basta maggiorare m grande h meno m piccolo h è la minore di epsilon su b meno a solo che però gli intervallini sono n quindi questo qua lo devo moltificare per n perché se ne conto 1 è minore di epsilon su b meno a ma se ne conto n è minore di n volte epsilon su b meno a però non fa niente n è semplice b meno a prima di 1 semplice rimane epsilon e io dico che abbiamo finito la dimostrazione cosa abbiamo dimostrato? abbiamo dimostrato che se una funzione è continua e nulla fuori di un intervallo abbiamo trovato una funzione a scario maggiorante una funzione a scario migliorante tali che la differenza ha integrale minore di epsilon questo a norma di definizione vuol dire che la funzione è integrale secondo lì quindi praticamente abbiamo fatto quello che abbiamo fatto nell'esempio vi ricordate? l'abbiamo fatto in generale per qualunque funzione con i conti di annula fuori di un intervallo abbiamo però dovuto sfruttare la teoria perché la teoria ci dice che fissato epsilon io posso scegliere n abbastanza grande tale che quando prendo quegli intervallini abbastanza stretti effettivamente faccio tutta questa differenza è chiaro? ok adesso però non abbiamo finito perché qua abbiamo solo le funzioni continue già la funzione per cui abbiamo dimostrato l'integrale di table la funzione x fra 0 è 1 era continua? no nel punto 1 non era continua se vi ricordate e allora come si può ovviare a quest'altro problema allora cominciamo a fare un'altra osservazione se f e g sono funzioni integrati secondo Riemann su R allora il loro prodotto è integrato a secondo Riemann su R allora dimostrazione chiamiamo la parte positiva di f f unito a zero chiamiamo la parte negativa di f uguale meno f il minimo tra f e zero cioè f uguale alla sua parte positiva meno la sua parte negativa se invece faccio la parte positiva più la parte negativa diviene il paolo assurdo similmente per g g sarà uguale alla sua parte positiva meno la sua parte negativa e se invece volessi fare la parte positiva più la parte negativa mi verrà il paolo assurdo perché ho fatto questa parte positiva e parte negativa? perché quando io vado a fare il prodotto quando vado a fare il prodotto f per g è uguale a f più meno f meno per g più meno g meno cioè f più g più più f meno g meno meno f più g meno più f meno g più ok? comunque parte positiva e parte negativa se ci fate caso sono ambe due positive non negative sono due funzioni non negative quindi quella parte negativa sarebbe quella che scende sotto a zero cambiata di segno allora queste quattro funzioni questa, questa e queste sono tutte quante maggiore o uguale a zero questa è maggiore o uguale a zero 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 cioè per meglio dire sono i prodotti di funzioni non negative quindi sono allora a me basta dimostrare che queste quattro sono integrabbi secondo rima per qual motivo? una somma o differenza di funzioni integrabbi secondo rima è integrabbi secondo rima basta dunque basta dunque considerare il caso f maggiore o uguale a zero g maggiore o uguale a zero cioè il teorema non lo devo dimostrare in generale basta soltanto se lo dimostro quando le funzioni sono positive perché devo fare questo? perché quando faccio i prodotti le disuguaglianze cambiano verso se ci stanno i segni di mezzo se invece è tutto positivo le disuguaglianze non cambiano verso quindi tutto questo ambaradam è servito a ricondurci al caso in cui f maggiore o uguale a zero g maggiore o uguale a zero allora allora sia epsino maggiore di zero allora io so che f in mauro assoluto è meno uguale di m e g in mauro assoluto è meno uguale di m cioè le due funzioni essendo integrabili secondo rima devono essere limitate se sono limitate posso supporre che la costante che la limite sia la stessa se uno è meno uguale di 7 l'altro è meno uguale di 10 prendo 10 prendo la più grande allora dico che esiste fi con 1 minore o uguale di f minore o uguale di fi con 2 fi con 1 e fi con 2 funzioni a scalino tali che l'integrale di fi con 2 meno fi con 1 sia minore di di epsino fratto 4m non mi ricordo se ci mette 2 o 4m mi ci metto 4m poi similmente esistono fi con 1 minore o uguale di g oh queste qua sono tutte funzioni positive minore o uguale di fi con 2 tale che fi con 1 e fi con 2 sono pure la loro funzioni a scalino e l'integrale di psi con 2 meno psi con 1 è minore di epsi su 4m adesso andiamo a vedere chiaramente fi 1 psi 1 è più piccolo di f per g che è più piccolo di fi 2 e psi 2 ma allora io cosa devo fare devo fare fi 2 psi 2 meno fi 1 psi 1 e devo fare l'integrale cominciamo a vedere la differenza poi l'integrale facciamo l'altra questo qua lo posso scrivere così come fi 2 psi 2 meno fi 2 psi 1 più fi 2 psi 1 meno fi 1 psi 1 quando passo ai valori assoluti non serve non serve posso farlo ma con vuoto solo le tere non era sbagliato ma non serve questo è uguale a che cosa? è uguale a fi 2 per psi 2 meno psi 1 guardate che qua c'è tutta roba positiva eh? questo è positivo questo è positivo e il prodotto è positivo più psi 1 per fi 2 meno fi 1 anche qua è tutta quanta roba positiva ma tutto ciò è minore o uguale allora questa è la minore o uguale di m perchè questa qua ho dimenticato di dire che quelle dall'altro le posso prendere più piccole di m dal basso c'avevo le funzioni erano positive quindi una minorante era zero la minorante la prendo più grande di zero dall'altro la maggiorante era m e allora la prendo più piccola di m m già ci sta quindi cosa posso dire? che questo è minore di m per psi 2 meno psi 1 più m per fi 2 meno fi 1 adesso quando vado a fare l'integrale abbiamo quasi finito? quando vado a fare l'integrale di fi 2 psi 2 meno fi 1 fi 1 adesso ci metto di x prima non ce l'ho messo per brevità se no si capiva di me 2 di x questo è minore o uguale di che cosa? sulle funzioni a scalino vi ricordate che l'integrale è monotono quindi questo qua è minore o uguale di m volte l'integrale tra meno infinito che più infinito di fi 2 di x meno fi 1 di x di x di 2 m volte l'integrale tra meno infinito che più infinito di fi 2 di x meno fi 1 di x che è minore o uguale di m io ci ho messo 4m e mi viene questo prodotto va addirittura epsilon mezzi ci potremmo mettere anche epsilon va bene x al menz che è minore o uguale e qua siccome c'è un minore o uguale ok cosa ho scoperto? ho scoperto che quando vado a fare il prodotto di due funzioni non negative e avevo che la prima funzione era compresa da due funzioni a scalino dalle integrali differenze al minore di x la seconda funzione era compresa da due funzioni a scalino doveva indicare la differenza che era di epsilon la funzione del prodotto è compresa tra le funzioni di prodotto che sono a scalino e tali che l'integrale della differenza è minore di 2 per epsilon per m se volete avere epsilon qua dovete partire con epsilon su 2m e epsilon su 4m ma comunque siccome m è una costante fissa epsilon invece è arbitrario lo posso rendere piccolo quanto mi pare che vuol dire quindi f per g è integrabile secondo r che è la condizione necessaria e sufficiente per l'integrabilità e che per ogni epsilon esiste una possibilità di scalino e una possibilità di scalino e una possibilità e una possibilità di scalino e una possibilità di scalino va bene? ok fate attenzione questo teorema adesso ne vediamo le conseguenze se c'è tempo mi sa di no questo teorema a differenza di quelli là sulle combinazioni lineari non mi dice quanto fa l'integrale quelli sulle combinazioni lineari cioè l'integrale della somma è la somma degli integrali l'integrale di lambda f è uguale a lambda volta l'integrale di f qua non ci pensate proprio che l'integrale del prodotto faccia il prodotto degli integrali eh no vedete x l'integrale di x tra 0 e 1 faceva un mezzo l'integrale di x4 tra 0 e 1 fa un terzo non fa un quadro è chiaro? però perché è utile questo teorema? per esempio per esempio allora vediamo questa prima conseguenza io ho una funzione integra continua e nulla fuori dall'intervallo è integrabile secondo rima? si poi prendo la funzione caratteristica di questo intervallo qua quindi fuori di questo intervallo la funzione vale 0 una funzione caratteristica di un intervallo è una funzione da scalino quindi integra di secondo rima faccio il prodotto cosa ottengo? questa funzione continua è ristretta a un intervallo e 0 fuori quindi tra A e B ottengo la funzione continua e fuori 0 è integrabile secondo rima è integrabile secondo rima e il 3 l'ho appena fatto sì quindi se io ho qualunque funzione continua e la restringo all'intervallo continua e limitata su quell'intervallo è sicuramente integrabile secondo rima cioè la metto a sinistra ma in questo modo io posso prendere anche una funzione qua metto un'altra funzione continua però qua ci metto un punto di salto cioè qua prendo che ne so la funzione che ne so qua prendo la funzione meno x qua prendo la funzione 1 più x4 questa funzione qua è integrabile secondo rima sì perché a sinistra è la funzione meno x moltiplicata per la funzione caratteristica di meno 1 o 0 a destra la funzione 1 più x4 moltiplicata per la funzione caratteristica di 0 o 1 poi le sommo anche se non è continuo anche se c'è il punto di salto è integrabile secondo rima ok quindi chiaramente usando questo dilemma possiamo integrare anche molte funzioni che non sono integrabili secondo rima più in generale dico solo questo non lo dimostro perché diciamo perdiamo troppo tempo in generale si può mostrare che allora più a meno f è una funzione f è e allora se f è nulla fuori di un intervallo intervallo limitato e fuori di un intervallo a b continua tranne 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 che in un numero finito di punto di a b allora f è integrabile secondo rima su e quindi quindi dico solo questo e poi facciamo pausa ogni volta che avete una funzione limitata nulla fuori di intervallo e questo ci vuole per forza e poi la funzione è continua a meno di un numero finito di punti allora è sicuramente integrabile secondo rima di un numero Grazie a tutti